Sto riprendendo. Stai riprendendo? E certo. Adesso cominciamo la discesa di questo bel canalino. Secondo me è bella neve, bella compagnia e bella giornata. Lì c'è il Bruno. Fammi la radio, guarda che ne hai uno al Bruno se rimango io dietro. Sì. Sì sì sì. È abbastanza inombra comunque la discesa. Era abbastanza inombra. No, la neve è ancora bella lei. Poi diciamo che se la sente se abbiamo gambe, se ho gambe, se ho gambe vedo. È abbastanza inombra o ci voglio giocare da solo?